Sabato 3 febbraio, San Biagio, è il 34esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 331 al termine. Il sole sorge alle 7.30 e tramonta le 17.23. La luna si leva alle 21.08 e tramonta le 9.19. Cessa di vivere a Firenze, Girolamo Segato, viaggiatore, cartografo e naturalista. Nato a Vedana, nel Bellunese, inventò un processo di pietrificazione dei cadaveri così da conservarne inalterati forma, colori e volume. La scoperta suscitò grande scalpore nel mondo scientifico del tempo, ma si dice che il segato ne abbia portato il segreto nella tomba. Le previsioni per domani. Variabilità con ampi spazi di sereno fino alle ore centrali, soprattutto sulle zone interne e qualche addensamento nuvoloso più persistente in seguito, soprattutto su quelle pianeggianti. Contenuto aumento della probabilità di modeste precipitazioni sparse dal pomeriggio in poi, a partire dalla pianura. Limite delle eventuali nevicate e per lo più a quote collinari. Le temperature minime diminuiranno pressoché ovunque congelate abbastanza diffuse. Quelle massime, sulle zone montane, saranno stazionarie o in leggero calo. Su quelle pianeggianti subiranno in prevalenza un contenuto aumento.